What's On! What's On! Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's On! Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il concerto The Very Best of John Williams al Teatro Colosseo di Torino è stato posticipato a questa sera, al recupero del 10 dicembre 2020 e del 14 novembre 2021. Il repertore del genio della musica cinematografica, per la prima volta in Italia, con un'orchestra di 70 elementi, da Star Wars a Harry Potter, da Schindler's List a Indiana Jones, un viaggio nel mito di John Williams. E alle 21 al Teatro Carignano di Torino, a Gruinnova e Tangram Teatro presentano Hervest, La ricerca dai suoi frutti, spettacolo scritto e diritto da Ivana Ferri, con Celeste Gugliandolo. Ironia e poesia sono le strade che questo spettacolo percorre, per dirci che in tutti noi deve crescere la consapevolezza, siamo un corpo unico a scienza, arte, salute e fantasia, rispetto per l'uomo e per l'ambiente sono ormai un imperativo. Al Politecnico di Torino il duo Eclectic, con una contaminazione tra genere eclettico e uno strumento elettrico. Questa sera alle 18 sarà infatti l'occasione per ascoltare sonorità inedite, quelle prodotte dal violoncello elettrico che nulla perde delle sue caratteristiche di strumento ad arco, e offre ulteriori possibilità interpretative a suonarlo Alberto Casadei, figlio d'arte, che si cimenterà anche con rielaborazioni di pagine del passato di Vivaldi e a Rossini e interpretandovi in brandelli di composizione proprie. Con Alberto Casadei al violoncello ci sarà Elisa Tomellini al pianoforte. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez. What's on! What's on! In Piemonte! What's on! Lo trovi anche su zipnews.it